Debutto con i Fiocchi questa sera per l'Associazione Culturale Storia in Azione, cronaca dell'identità italiana. Il presidente Massimo Baronciani sarà il relatore di una conferenza dedicata ai personaggi e agli eventi della Divina Commedia nella provincia di Pesaro Urbino in occasione del 700esimo anniversario della dipartita del Sommo Poeta. Oggi si inaugura con questo evento che naturalmente rammemora i 700 anni della morte di Dante Alighieri ma che rappresentano anche un tratto costitutivo dell'identità italiana e della sua storia nel suo incessante divenire. Dante è eterno e ci sembrava giusto omaggiarlo come primo nostro appuntamento. Ecco, dottor Baronciani, tra l'altro un Dante immerso nella nostra provincia. E' questo il light motive della sua conferenza questa sera? Sì, ovviamente ripescare i personaggi e gli eventi della nostra provincia che appartengono anche alla Divina Commedia significa dare risalto ai tratti costitutivi genetici della nostra storia medievale e non solo perché sono avvenimenti che hanno tutti contribuito e personaggi a plasmare la nostra storia attraverso cose, nomi, geografia e storia senza le quali non c'è identità. A proposito di geografia, quali sono le località che verranno toccate nella disamina durante la sua conferenza? Per chi non potrà essere qui stasera? Ci sarà naturalmente Gradara, Fiorenzola di Focara, Fano e anche il Monte Feltro seppur quella parte che non ci appartiene più amministrativamente dopo il referendum del 2009 ma che comunque geograficamente e culturalmente fa ancora parte della nostra storia. Presidente, quali saranno i prossimi appuntamenti dell'Associazione Storia e Nazione, cronache dell'identità italiana visto che lei è il Presidente? Tutto è in divenire. Il prossimo molto probabilmente potrebbe essere dedicato al processo di Gesù anche per la rivisitazione di un evento che è stato importantissimo che è riferibile alle tradizioni giudaico-cristiane e naturalmente ebraiche della nostra civiltà europea. Poi per il resto stiamo costruendo il cantiere in allestimento. Il cantiere in allestimento, lei è il capo di questo cantiere, si augura di arrivare a quali risultati? Non sono il capo, è uno staff, è un team che lavora insieme, siamo alcune persone. Il risultato però non è semplicemente quello di creare una serie di eventi slegati tra loro ma di poterli legare attraverso una trama costitutiva che sia fatta di pensieri, parole, approfondimenti, giornalismo, libri scritti in modo che non ci siano solo le perle ma vi sia anche naturalmente il tessuto connettivo. L'Associazione è neocostituita e in verità l'Associazione si prefigge un obiettivo molto ambizioso come dirò in apertura che è quello non soltanto di promuovere degli eventi culturali sul territorio ma lo scopo principe è proprio quello di risvegliare l'identità e il senso di appartenenza di ciascuno di noi e quindi quel legame con le tradizioni, con la cultura, con il proprio territorio che ritengo sia un obiettivo davvero importante. Questo è il primo appuntamento? Ce ne elenca se sono già in programma altri a breve? Ci saranno sicuramente altri appuntamenti perché l'idea è quella di creare un percorso di eventi culturali al momento ci riserviamo di scegliere i personaggi che saranno appunto oggetto dei prossimi appuntamenti e Storia in Azione comunicherà chiaramente pubblicamente i prossimi eventi. Ecco, chi volesse aderire all'Associazione, vista che è aperta a tutti, cosa deve fare, chi deve contattare, come deve mettersi d'accordo con voi? L'Associazione culturale chiaramente è aperta a tutti ed è di natura trasversale, pertanto possono essere contattati i tre fondatori dell'Associazione che sono Massimo Baronciani, Marcello Valdinocci e Cesare Cofanelli che poi daranno tutte le informazioni relative all'iscrizione. Grazie a tutti.